Buongiorno a tutti, mi presento, sono Enrico Parolin, sono un artista creativo, faccio parte del team Migliori Artisti Internazionali della Decorazione. Quello che vediamo oggi è una decorazione materica, il materiale segue il twist-in della Giorgio Risen, l'effetto è una pietra spaccata, effetto roccia arenarica, con l'effetto di una decorazione sfumata a quattro colori. La caratteristica di questo materiale è un grassello di calce e polvere di marmo, viene steso in parete, viene compattato, viene dato un fondo di madreperla, viene dato la sfumatura delle varie coloriture, sempre con delle vernici madreperlate, viene sfumato e dopo viene vetrificato. Ci troviamo praticamente in un casale della periferia di Padova, è stato fatto un ripristino e un adattamento del restyling, mi è stato chiesto in intervento di valorizzare questo bellissimo vano scala alto 7 metri, gli ho proposto una decorazione effetto pietra spaccata, come potete vedere, che parte dal basso verso l'alto e va a intersecarsi con la zona notte. La bellezza di questi accostamenti è che si può accostare anche con un grassello in spatolato semi lucido e si può anche accostare con un bellissimo ripristino di una parete in pietra di mattoni pieni vecchi fatti a mano. Abbiamo proposto questa decorazione, la pietra spaccata, a partire dalla piena terra fino a sopra al piano notte, per valorizzare tutto il contesto, oltre a fargli ripristino di una muratura in mattoni pieni effetto praticamente muro antico e gli ho proposto di fare una scala che successivamente verrà rilestita con un tavolato identificato e verrà fatto tutto l'abbinamento all'interno di questa decorazione. Come potete vedere questa è una decorazione lavabile, traspirante, una decorazione che ci permette di ottenere questo bellissimo effetto. Potete vedere la peculiarità di questo materiale. Io adesso vado in fase di accarezzamento, diciamo, di quello che è la parte della superficie. È quasi come una lastra di marmo. La bellezza di questo materiale è che più lo carezzi praticamente e più ti regala queste bellissime emozioni. L'accostamento è stato fatto anche con questi bellissimi libristini, ossia da una libristina nella colonna ai fini di mattoni, qui verrà messa una ringhiera in ferro per valorizzare il tutto. Ecco, ci possiamo congettare qui. Vi invito a visitare il mio sito che è www.biachinopadova.it o visitare il sito di l'artista internazionale della decorazione.it e ci vediamo la prossima volta con il video dell'artista. Grazie.